È la seconda edizione dello Smart Festival, quando ci è stato proposto questa collaborazione da officine della cultura già l'anno scorso pensavamo che fosse una visione di prospettiva. Il fatto che siamo qui per il secondo anno conferma la volontà dell'idea. Quest'anno mi sembra che il programma sia ancora più ricco e quindi, che dire, credo che da questo punto di vista è un altro segno più per la città di Areccio e per la realtà teatrale aretina.